buongiorno ciao ministra francesca mencacci la nazione prima di entrare un po nel vivo della partita di domani volevo da te un'opinione sul come come si affronta insomma adesso ormai sono ufficiali anche le date che erano prevedibili quelle dei recuperi come si affronta come si domanda a questa domanda le risposte sono cioè diciamo una risposta scontata bisogna ragionare partita dopo partita sarà un mese duro un mese difficile però non possiamo pensare al mese dobbiamo pensare alla partita di domani che sarà un impegno molto molto difficile contro una squadra forte e che sta facendo un campionato importante come il nostro quindi dobbiamo pensare alla partita di domani e poi successivamente pensare alle altre partite ma non possiamo se pensiamo al mese che c'è che ci aspetta sarà ti viene mal di testa solo a pensare però non possiamo fare questo dobbiamo pensare partita dopo partita e affronteremo tutti gli impegni con la massima attenzione e concentrazione buongiorno mister buongiorno giammarco minossi tutto c.com siete alla vigilia di un trittico di partite molto impegnativo domani c'è il modena poi la san benedettese e recupero contro il cesena tre match di alta classifica qual è la difficoltà maggiore nel gestire questi impegni nell'usare le forze ma la difficoltà le difficoltà sono tante però ripeto non bisogna pensare alle altre partite bisogna pensare a quella di domani perché come ho detto prima diventa poi tutto più difficile dobbiamo solo solo stare attenti concentrati poi ogni giorno penseremo a quello che dobbiamo fare ecco l'altra domanda invece è una domanda di carattere tecnico e alla luce della buona prova che ha offerto moscati in cabina di regia nella partita contro la vispesero è possibile rivederlo domani dal primo minuto anche nell'ottica di far rifiatare burra in vista dei prossimi impegni ravvicinati oppure burra è già pronto dal primo minuto sono valutazioni che farò fino a domani o più di un dubbio in questa settimana perché ho la rosa a disposizione quindi giocatori tutti forti tutti pronti per dare una mano alla squadra quindi sono delle valutazioni che farò domani il giorno della partita moscati come anche gli altri hanno sempre dato un contributo importante poi valuterò valuterò al momento in base a cosa deciderò di fare perché sono giocatori con caratteristiche diverse però sono tutti e due giocatori sia burra che che moscati ma anche van belegen lì nella zona centrale a fare il play sono giocatori importanti con caratteristiche diverse quindi sono delle valutazioni al di là di chi sceglierò sono sicuro che ognuno darà un contributo importante buongiorno mister carlo forciniti corriere del buongiorno carlo e all'andata è stato un perù già cinico capace di graffiare quando ha potuto ti aspetti al netto anche di un momento molto diverso rispetto a quando siete arrivati a giocare col modena momento molto diverso in questo genere di ritorno ma ti aspetti una partita sulla falsa riga dell'andata o credi che possa svilupparsi in maniera diversa grazie diciamo che sono due momenti diversi non giocavamo con un sistema di gioco diverso venivamo da un periodo diverso adesso la squadra a mio avviso ha una consapevolezza di essere una squadra forte allo stesso tempo sta sempre concentrata si allena al massimo come faceva prima però adesso c'è consapevolezza dei propri mezzi quindi sono due momenti diversi ma la partita sarà difficile come quella dell'andata dove loro hanno tenuto di più il pallino del gioco dove abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato quindi noi dobbiamo essere anche domani molto cinici quando ci capiterà l'occasione per dobbiamo sfruttarla allo stesso tempo dobbiamo pensare dall'altra parte c'è la difesa meno battuta se non erro del girone quindi e questo i numeri parlano chiaro quindi sarà difficile fare gol però non dobbiamo provarci dobbiamo cercare di stare sempre concentrati perché sarà una gara molto difficile sia per noi sia anche per loro no dicevo la difesa battuta meno battuta dei tre gironi non solo di questo quindi questa è la dimostrazione che è una squadra che se non prendi gol a mio avviso non è merito solo della linea difensiva ma è dell'intera squadra perché poi quando ci sono gli attaccanti che vanno a pressare sempre e danno una mano alla linea difensiva alla linea del del centrocampo questa è la dimostrazione che secondo me nel calcio fa la differenza e il sacrificio da parte di tutta la squadra non solo di un reparto buongiorno mister giuliano le volevo chiedere eh lei ha diversi dubbi perché comunque rientra rientra diversa gente no eh anche in attacco potrebbe cambiare qualcosa anche se eh l'equilibrio si è trovato con questa formula diciamo con falserano Elia eh punta tipica e un attaccante no però Bianchimano anche ha tirato un po' la carretta in questi in queste quattro cinque partite pensa che lì potrà rientrare qualcuno eh dei tra virgolette titolari grazie Bianchimano è un titolare come sono del resto tutti gli altri ha dimostrato di meritare la maglia titolare nei momenti difficili ha dato una grossa mano alla squadra non solo a livello realizzativo ma anche a livello di prestazione quindi per me è un titolare come tutti gli altri ho dei dubbi non solo in attacco ho dei dubbi quasi tutti i reparti perché sono giocatori o il rosa giocatori forti quindi quando c'è da scegliere bisogna sempre valutare bene in base all'avversario in base al momento in base alla caratteristica della squadra avversaria tante cose io devo devo valutare tante cose quando faccio la formazione e pensare chi mi può dare qualcosa in più anche a partita in corso perché poi ci sono anche degli elementi che sono appena rientrate dall'infortune quindi non hanno anche 90 minuti nelle gambe quindi sono delle valutazioni che devo fare fino a domani o il tempo fino a domani per poterle fare quindi le farò domani perché ripeto ho tutta la rosa a disposizione ma qualche elemento ancora non hai 90 minuti quindi è un cambio già già sicuro e quindi io devo anche valutare questo e in base a questo deciderò ripeto domani. Buongiorno Andrea Franceschini Umbre Radio. Buongiorno. Il Modena come si diceva prima ha subito solamente quattro golle in trasferta ne ha vinte sette su tredici lontano da casa. In questa partita c'è da un lato la voglia di vincere chiaramente e la necessità di vincere ma d'altro canto guardando questi numeri anche la necessità di non subire quel gol che potrebbe essere difficile poi da recuperare quindi bisogna mantenere questo equilibrio in campo quello che un po' lei ha chiesto spesso anche soprattutto con squadre meno forti del Modena di non distrarsi domani chiaramente gli stimoli ci saranno però come si fa a mantenere questo equilibrio in campo bisogna affidarsi a degli uomini di esperienza oppure martellare durante la settimana appunto per per non sbilanciarsi troppo a cercare la vittoria a tutti i costi. Ma guarda al di là del risultato finale di domani che poi alla fine come ho sempre detto gli episodi poi condizionano le gare. In queste partite non bisogna tanto per quanto mi riguarda non bisogna tanto parlare di queste partite perché già di sette dà delle attenzioni maggiore rispetto a una partita contro una meno forte magari tra virgolette sulla carta quindi la mia l'attenzione ci deve essere sempre ma sono convinto che in queste partite meno si parla e meglio è un allenatore in queste partite deve parlare poco perché l'attenzione si è l'adrenalina per la partita di cartello già ti dice tutto quindi sicuramente troveremo domani due squadre che si affronteranno a viso aperto e poi ripeto al di là del risultato finale sono sicuro sarà una partita difficile per tutte e due le squadre quando giochi con una meno forte sulla carta lì devo cercare da allenatore devo cercare di alzare l'attenzione perché capita spesso che nelle partite non di cartello capita che l'attenzione magari venga un po' meno da parte di qualche calciatore in questa partita no sono molto sereno e tranquillo perché sono sicuro che domani la squadra scenderà in campo per fare una grande gara sarà difficile ma allo stesso tempo non ci dobbiamo fare e non dobbiamo preoccuparci più di tanto perché noi sappiamo cosa dobbiamo fare sappiamo le difficoltà sappiamo tante cose che noi dobbiamo cercare di andare domani a riproporre sul campo e poi vediamo se siamo a fine partita siamo stati più bravi degli avversari o meno però ripeto queste sono sono delle sfide che non bisogna l'attenzione si alza da sola ciao mister Antonello Ferroni messaggero anche in questa gara e in più in generale anche nelle prossime tantissime partite ravvicinate che aspettano il Perugia tu utilizzerai la filosofia che hai utilizzato fino ad oggi per le scelte cioè vedo al momento chi sono quelli che mi possono dare il massimo in campo poi per la successiva raccolgo tra virgolette morti e feriti e vedo chi cioè cambio di volta in volta in base a chi sta meglio o prevedi anche di poter fare invece un turnover ragionato no io non credo a queste cose non credo al turnover ragionato io credo alla partita credo al momento non vedo perché un giocatore ti faccio un esempio se un giocatore riesce a fare tre partite consecutive in una settimana sta bene sta facendo bene non vede il motivo perché devo fare il turnover il turnover poi ci sono i pro e contro cambiare tanto da una parte fa bene per far recuperare tutto dall'altra fa meno bene perché poi dare continuità ad una formazione tra virgolette tipo dare continuità tipo dare dei vantaggi la cosa importante per me fa sentire tutti i calciatori importante alla causa poi al di là delle scelte iniziali perché noi non bisogna guardare solo le scelte iniziali perché poi chi non gioca titolare non significa che non è un giocatore importante anzi la maggior parte delle volte chi risolve le partite sono chi subentra e quindi per me chi subentra se devo fare un esempio io quando abbiamo vinto con la Juve Stabio chi è stato determinante per me è stato Elia ma Elia non da titolare, Elia subentrando è stato un giocatore fondamentale perché nei momenti dove i ritmi si abbassano lui ti dava quella marcia in più che ha fatto la differenza per tante tante partite quindi non bisogna pensare solo chi gioca titolare è importante chi non gioca titolare non è importante oppure una boccia assolutamente no perché per quanto mi riguarda faccio delle scelte anche in funzione di chi penso che durante la partita mi possa dare un qualcosa in più a livello di caratteristica soprattutto a livello di caratteristica soprattutto a livello perché per voi giustamente per il vostro lavoro per i tifosi per i non tra virgolette detti lavori si guarda solo la formazione titolare io devo guardare la formazione titolare ma ripeto anche chi penso mi possa dare qualcosa in più a partite in corso quando i ritmi magari si abbassano se devo cercare di recuperare una partita e devo inserire un certo giocatore un certo giocatore con certe caratteristiche poi se devo magari mantenere il risultato mettere un altro giocatore con altre caratteristiche quindi io le valutazioni non le faccio solo negli undici titolari ma le faccio anche pensando cosa magari può succedere nell'arco dei 90 minuti Perugia adesso ha adottato un modulo di gioco che sta dando grandi frutti la domanda che mi porto da qualche tempo è però il Perugia dal punto di vista difensivo era particolarmente efficace prima oggi è normale che lo sia un pochino meno perché la coperta non può essere sempre qualche volta è corta però chiaramente c'è che fai tanti gol comunque quindi diciamo sei ripagato ampiamente da questa nuova impostazione però la domanda è in alcune partite come il Modena domani ma soprattutto mi viene in mente Padova o altre in futuro è possibile che tu possa rispolverare la difesa 3? Ma per me la difesa 3 non l'ha contonata perché non voglio più utilizzare la difesa 3 giocando con la difesa 3 come giocavamo prima era un momento dove la squadra a livello fisico non stava al 100% per tanti e tanti motivi che voi ben sapete quindi ho deciso di dare più sicurezza più tranquillità a tutta la squadra magari rimanendo un po' più coperti e cercando di sfruttare le giocate individuali da quando si è rientrati la squadra dal punto di vista fisico è cresciuta tanto quindi fare quel tipo di gioco che a me piace essere molto propositivo ti dà e ti toglie sei soggetto più a delle ripartenze giocando come stiamo giocando ultimamente perché siamo molto offensivi e purtroppo devi concedere qualcosa all'avversario però sinceramente preferisco vedere una squadra molto propositiva la mia squadra propositiva con voglia di andare a vincere e lottare e cercare di vincere tutte le partite che aspettare alla giocata individuale quindi preferisco rischiare qualcosa e cercare di creare qualcosa in più rispetto a prima è normale ci saranno partite dove speriamo magari stai vincendo e quindi ti devi mettere un po' in difesa e quindi magari passare di nuovo la difesa 3 per me non è un problema ma non è il concetto della difesa 3 essere più difensivo o offensivo e il sistema di gioco lo continuo a dire per me è relativo è l'interpretazione che dà il sistema di gioco perché anche giocando con la difesa 3 e stai e sei molto offensivo rischi di prendere delle ripartenze magari con un difensore in più puoi soffrire un po' di meno ma non è non è questa la cosa principale è come interpreti il sistema di gioco ma ripeto la difesa 3 può essere una soluzione anche in futuro Clero Bertoldi di Corriere Raw Sport mister pensa che sarà più domani una partita da Fioretto o da Scimitarra? domani sarà una partita dove si affronteranno due squadre forti lo hanno dimostrato fino a questo momento di meritare le posizioni in classifica e quindi sarà una partita dove ci sarà il Fioretto dove ci sarà ci sarà di tutto non solo il Fioretto ma io credo che al di là della partita di domani e delle posizioni classifiche che occupano le due squadre tutte le partite ci saranno dei momenti dove si deve utilizzare il Fioretto e altre dove si deve vada solo al Soto quindi domani mi aspetto l'uno e l'altro mister allora visto che il Modena ha la difesa creare abbiamo detto possono essere le chiavi la qualità l'imprevedibilità i movimenti negli spazi e i calci piazzati? sì credo che tutte queste componenti possono essere delle chiavi importanti per la partita di domani soprattutto i calci piazzati sono un elemento è un elemento importantissimo da sfruttare soprattutto da stare attenti perché loro sono anche molto bravi sui calci piazzati perché sono una squadra anche molto strutturata quindi dobbiamo concedere pochi calci piazzati e dobbiamo sfruttare soprattutto i calci piazzati a nostro favore ma domani penso che la cosa più importante sia vedere da parte del Perugia la voglia di vincere contro un avversario forte e poi per il resto dobbiamo solo pensare solo a questo viva la cosa viva la cosa Grazie.